Eccellenza, eccellenza, io sono stanco, è da stamattina che sto in piedi. Va bene, va bene. Che cos'altro avete da aggiungere? Ah, ecco, vedi, eccellenza, io vi auguro tutto il bene del mondo a voi e alla vostra famiglia per carità. Però, se voi dite che io non sono pazzo, io forzate davvero pazzo e chissà, come viene qualche pensiero. Mettiamo che una cosa succede a voi o alla famiglia e si può succedere, che fa? Allora, diventate pazzo pure voi. E allora poi ci vuole un altro giudice che ci manda tutti e due al manicomio.